GAMSGO è la piattaforma che ti permette di risparmiare soprattutto su molte piattaforme streaming e piattaforme per lavorare ovviamente qui abbiamo YouTube Premium perché qualche utente, qualche cliente che ha comprato così YouTube Premium attraverso così il mio link e il mio codice promozionale per ricevere anche uno sconto su YouTube Premium ovviamente se vado su ti faccio vedere direttamente un utente che ha comprato così e ha aggiunto pure il codice promozionale ha comprato un anno di YouTube Premium a soli 40€, 39,60€ YouTube Premium, 12 mesi in questo caso come funziona su GAMSGO? In descrizione c'è il link che ti porterà sulla pagina ovviamente mi disconnetto un attimo dall'account per farti vedere proprio la parte proprio iniziale su come funziona GAMSGO ed ecco qua la pagina, ti porta su questa pagina qua attraverso quel link clicchi direttamente su YouTube Premium e in alto a destra accedi quindi come vuoi accedere a GAMSGO? puoi accedere direttamente con un account Google così facendo ti mandano per via email e credenziali per accedere a un nuovo account YouTube quindi vai su YouTube vado sul mio account dove ho comprato parecchi abbonamenti Netflix, Disney+, Paramount Channel quindi in questo caso se vado su iscriviti adesso ci sono i mesi di acquisto abbiamo quello da 2 anni 84€ più il codice promozionale che vedi qua sotto 12 mesi più il codice promozionale che vedi qua sotto e poi abbiamo quello da 6 mesi quindi in questo caso la piattaforma GAMSGO è veramente ottima tu puoi anche comprare molti servizi assieme anche a YouTube, Netflix, ChatGPT Office, Spotify, Paramount+, Disney+, è veramente ottimo per farti vedere che io vado direttamente sui miei abbonamenti ed eccoli qua questi erano dei miei vecchi abbonamenti quindi per farti un piccolo esempio che io compro un Netflix sulla piattaforma GAMSGO come puoi vedere vado così al pagamento questo è il prezzo di 3 mesi di 12,74€ più il codice promozionale vado direttamente su Netflix inserisco così le credenziali che mi hanno mandato per via email oppure le trovo direttamente sui miei abbonamenti GAMSGO e clicco così il mio profilo ed entro su Netflix quindi ho comprato 4 account di Netflix però se tu rinnovi il tuo abbonamento ti danno anche dei giorni extra quindi te li regalano ti regalano dei giorni extra se rinnovi sempre il tuo account quindi ti danno l'account quindi ti danno un'email e una password da inserire direttamente YouTube un nuovo account Google di YouTube per 12 mesi e mi raccomando poi quello rimarrà il tuo account e ti consiglio di rinnovare per avere anche dei giorni extra in più quindi la piattaforma GAMSGO è veramente ottima per altri problemi ancora puoi iscrivermi su Instagram oppure entrare nel mio server Discord e chiedermi tutto in privato molte informazioni in privato puoi chiedermi oppure commenta sotto al video quindi grazie a tutti per questa visione noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao